Ci troviamo oggi in questo luogo per commemorare il nostro caro sindaco Mirella Cirini, una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità. La sua dedizione e il suo impegno hanno ispirato tutti noi e a nome dell'Associazione Culturale Area Giovani desideriamo renderle omaggio. Piantare un albero, quello là in fondo alle vostre spalle, simboleggia la vita, la crescita e la continuità. Questo gesto rappresenta non solo il ricordo del sindaco Cirini, ma anche la speranza che i suoi valori e il suo esempio continuino a vivere in noi. Con profonda gratitudine mettiamo a dimora questo simbolo, segno tangibile della sua eredità.